42 capi d'accusa e 18 soggetti indagati nell'ambito dell'operazione Riders, portata avanti dai carabinieri dell'Aquila in collaborazione con i colleghi di Pescara, Montesilvano e Vasto. Riders, ossia predoni, proprio per le caratteristiche d'azione dell'associazione a delinquere, dedita prevalentemente al furto di rame, per un valore approssimativo stimato attorno ai 200.000 euro, che non disdegnava però reati di crash trapping, ossia di furti ai bancomat, nei quali venivano invece impiegati donne e bambini, oppure automezzi utilizzati per eseguire l'attività criminale. L'attività d'indagine è stata avviata a seguito del furto presso la società aquilana Vivenda S.P.A., dove veniva rubato proprio un autocarro, munito però di dispositivo GPS. Il suo sodalizio è quello del furto ai bancomat con la metodologia cosiddetta del cash trapping. Sostanzialmente è una tecnica che si avvale nel mettere un manufatto, un uncino all'interno del bocchettone erogatore del denaro e nel momento in cui l'ignaro avventore richiede il denaro stesso non lo vede erogato. L'avventore crede in un malfunzionamento della macchina e quindi si allontana senza preoccuparsi di nulla. Ovviamente subito dopo si avvicinano i malviventi ed estraggono i soldi trattenuti da questo manufatto precedentemente posto all'interno del bocchettone, ripeto. La massima attenzione, se si nota qualcosa di irregolare, di strano, invito tutti a chiamare il 112 o appunto l'istituto di credito presso cui ci si sta rivolgendo. Il risultato di rame alla vivenda, grazie a una localizzazione GPS di cui era dotato il mezzo con cui si era allontanato il malvivente, è stato rintracciato. Dalle sue dichiarazioni poi siamo riusciti a dare maggior impulso alle intercettazioni telefoniche e quant'altro e quindi a risalire a tutta la filiera, a tutti i sodali dell'organizzazione crimine. Non disdegnavano assolutamente alcun tipo di reato predatorio, sostanzialmente facevano razzie di tutto e da qui appunto il nome Riders, perdoni. Grazie.